Sbagliare capita a tutti, ma quelli della Pistoiese in maglia arancione ieri contro l'Atalanta hanno esagerato e sono stati puniti. La squadra di Bergamo infatti è uscita vittoriosa dall'incontro con un gol messo a segno dal giovane Felisetti, terzino di sicuro a venire. La palla ha sbattuto contro la parte interna della traversa ed è rimbalzata in rete. La Pistoiese ha avuto numerose occasioni per far suoi i due punti o quantomeno per pareggiare. Ma non le ha sapute sfruttare a dovere. Un paio di esempi. L'Atalanta ha reagito con ordine e molta determinazione. Un tiro degli attaccanti bergamaschi parato con difficoltà da Moscatelli. Ed eccoci all'occasione clou per la Pistoiese. Siamo quasi alla fine della partita, Saltutti atterrato in area, sbaglia poi il calcio di rigore concesso dall'arbitro Pansino. Il pallone del pareggio finisce fuori della porta difesa da Memo e svaniscono le speranze dei locali. La divisione dei punti forse sarebbe stata più giusta, ma, sia detto con tutta sincerità, l'Atalanta non ha rubato niente.